Nel centro cittadino sono attualmente presenti due scuole materne, precisamente la Santa Maria delle Grazie e la Mozzillo. E' considerato che, per ragioni di opportunità logistica e funzionale, le due scuole materne potrebbero essere accorpate in un unico plesso, si potrebbe creare un polo didattico che meglio risponda alle esigenze di fruibilità da parte dell'utenza e favorisca lo scambio e l'integrazione. E' questa l'idea dell'amministrazione comunale agropolese retta dal sindaco Adamo Coppola, il plesso della Gino Landolfi, in prestito all'istituto Scudiero, tornerà nella piena disponibilità dello stesso e quindi si potrà destinare la porzione di edificio dell'istituto Gino Landolfi, attualmente utilizzato dalla Scudiero, all'accorpamento dei due istituti scolastici materni, mantenendo comunque i plessi separati e indipendenti. L'accorpamento si rende necessario, probabilmente, anche per via della possibile realizzazione del commissariato di polizia presso i locali della scuola Mozzillo, Nelle scorse settimane, infatti, il sindaco Coppola, insieme ad alcuni tecnici comunali e rappresentanti della costura di Salerno, verificarono la possibilità di utilizzare il plesso di piazza Mediterraneo come sede di una caserma di polizia. Questo, addestato da parte del corpo docente e delle famiglie, tanto malcontento. Di sicuro la scuola non starà a guardare e si pensano azioni mirate per bloccare l'iter dell'accorpamento.